Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con le sorprese dell'Happy Meal di McDonald's. Come sempre ve le avevo annunciate, vi lascio qui sotto i miei social, mi raccomando seguitemi così da restare sempre aggiornati. Allora, come sempre, vi ricordo che queste sorprese, sia questa che apriamo oggi, sia tutte quelle scorse che abbiamo aperto, le trovate sul mio ebay. Sotto in descrizione vi ho lasciato tutti i link, se siete interessati a alcune delle sorprese le trovate lì sotto. Va bene? Allora, oggi ci apriamo finalmente Jerry, perché mancano le ultime tre e mancano tre Jerry, perché c'era la corsa al formaggio di Jerry. Jerry dentro al formaggio e questo dentro la vaschetta da bagno, perché hanno fatto uscire tutti i Tom insieme e poi sono rimasti tutti i Jerry. Io avrei alternato, fossi stati loro. Comunque il Mac non si capisce bene mai come funziona, come fanno, quindi vabbè. Comunque, ragazzi miei, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicello in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i video che abbiamo fatto fino ad ora. Ormai siamo giunti quasi al termine, quindi li potete trovare tutti. Poi devo salutare Gianfranco, Lori e Pandino e Raffaele. Grazie ragazzi per seguirmi sempre, grazie anche per essere pazienti. Se non sbaglio voi mi avrete chiesto di essere salutati nell'episodio 9, che avevo appena girato, quindi per pochissimo non sono riuscito ad aggiungere i saluti nello scorso video. E quindi avete dovuto aspettare il decimo episodio. Io vi chiedo solo di essere pazienti, però insomma, come vedete poi, vi saluto sempre. Va bene? Dunque ragazzi miei, andiamo ad avere Jerry nella vasca da bagno, credo. Ok, eccoci qui, guardate che carina la scatola con Jerry che si fa il bagnetto. Allora, apriamolo e scopriamo insieme come è fatto. È simpatica questa cosa che dobbiamo sempre scoprire la funzione, no? Quindi ogni gioco capire qual è la funzione è bello. Allora, l'artwork molto carino, questa volta non stanno facendo la guerra i nostri Tom e Jerry, stanno facendo il bagnetto. Finalmente li vediamo allegri e felici. Allora, vediamo un po' la funzione. Bene, credo che bisognerà farlo camminare, quindi noi facciamo scorrere la vasca da bagno e all'interno Jerry girerà insieme all'acqua, ok? Qui ci fa vedere la funzione interna e qui la gag di Jerry che viene inseguito da Tom. Va bene? Allora, andiamo a vedere. Sembra molto piccolino, eh? Non aspettavo un po' più grande, devo dire. Però, giustamente... Allora, vi dico subito una cosa. Forse è il primo Jerry, che nonostante abbia ancora questa faccia un po' allungata, però secondo me è il Jerry migliore riuscito finora, almeno come scultura del personaggio. Questo quantomeno gli somiglia, cioè se uno se lo guarda e dice, ok, è Jerry. Quegli altri, francamente, insomma. Peraltro vedo anche una colorazione migliore. Quegli altri mi ricordo che erano più lucidi, più finti. Quindi, vedete, questo invece è stato colorato molto meglio. Vedete la pancia, il muso, ok? E il livello di scultura è buona. L'acqua non è un granché, diciamolo. Qui sotto abbiamo la funzione, cioè una rotella, e questa invece è quella meccanica che fa girare Jerry. Va bene, quindi facciamo un po' di spazio, lo proviamo. Vedete? Vabbè, dai, è carino, ragazzi. Noi muoviamo la vaschetta e, allo stesso tempo, il nostro Jerry gira, ok? Gira nell'acqua. Quindi, dai, ragazzi, carino. Vi devo dire nulla di meraviglioso, però onesto. Abbiamo visto di peggio, ragazzi. Ho quel cavolo di Jerry con l'aspiratore, proprio non mi è andato giù. Quello non mi è piaciuto proprio per niente. Ho visto che qualcuno mi ha scritto che sono stato un po' troppo severo a giudicare quel personaggio. Ma francamente, ragazzi, a me quello proprio non mi è piaciuto. Questo è carino. Devo dirvi che questo è carino. Insomma, nella collezione sicuramente ci sta bene. Perché poi, guardate, lo poggiate così, fa anche una buona figura. Va bene? E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le non uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Bello! Come Jerry che fa il bagnetto. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se state continuando questa collezione, quali sono i personaggi che avete trovato e quali, invece, ancora vi mancano. Io vi do appuntamento fra qualche giorno, quando andremo ad aprire Jerry nella forma di parmigiano. Sembra molto carino. Qui da Visio e da Jerry è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao, ciao!